Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi come realizzo una base per delle stecche di marshmallow utilizzando una base in bulissirolo. È davvero semplice, ci serviranno pochi materiali, in questo caso dei cartoncini stampati della fantasia che preferite e una base di bulissirolo, poi una taglierina o delle forbici con la caldo o se preferite un altro tipo di colla. Quindi vi lascio al tutorial, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, lasciate un like e se avete qualche idea al solito scrivetelo giù nei commenti. Vi auguro una buona visione, ciao! Grazie a tutti! In questo caso io utilizzerò due foglie A4 e comincerò nell'andarli a tagliare creando due parti perfette come queste. Scusate qui ma il mio cane cercava di attirare l'attenzione ed era troppo dolce per ignorarla. adesso riprendiamo e prendendo una striscia di cartoncino inseriamo della colla a caldo e andiamo a ricoprire i lati della nostra base. Continuiamo così per tutta la base. Grazie a tutti! Adesso che la base è quasi terminata andrò ad incollare questo piccolo taglio. è un'elefantino che ho stampato proprio per abilire la base, dato che sarà un battesimo tutto a tema elefantino. adesso basterà semplicemente inserire le stecche all'interno e la nostra base è terminata. Grazie a tutti! Ciao! 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 Ciao!